Buonasera a tutti, sono onorato di essere qui con questa piazza. Ringrazio chi ha organizzato in breve tempo questa manifestazione di popolo. Camminare insieme oggi in una città simbolo del dialogo e dell'incontro come Venezia è un motivo di speranza, questa piazza è un motivo di speranza. È il procedere in corteo da parte di donne, uomini soprattutto giovani, ma anche persone meno giovani che vogliono pensare oggi con la loro testa, portatori di storie e di idealità differenti, ma uniti, uniti nella comune volontà di costruire il grande ponte della pace, sempre in costruzione, camminando insieme, andando verso l'unica meta. Siamo qui in piazza San Marco che oltre a essere la piazza per eccellenza di questa città è come tutte le piazze di ogni città e oggi in particolare dell'Ucraina simbolo dell'incontro, simbolo del dialogo, simbolo della libertà, della convivenza umana, della libertà che costa la vita. Ma non dimentichiamolo, un pensiero mi torna spesso alla mente in questi giorni. La guerra è la lezione che l'umanità non riesce mai ad apprendere abbastanza. Dopo i due terribili conflitti... Oggi pomeriggio siamo stati convocati in questa basilica dedicata alla Madre di Dio, la Madonna della Salute. È la chiesa nella quale il santuario, nel quale i veneziani e non solo, da secoli vengono ad affidare la propria vita e l'esistenza, il cammino della propria comunità cristiana, della propria città, del proprio paese alla Madre di Dio. Questo pomeriggio vogliamo affidare le sorti del mondo e, in modo particolare, dei popoli coinvolti nella tragedia della guerra. Desidero, a nome della comunità del seminario, accogliervi tutti in questo luogo così significativo. Saluto l'assessore Besio, che rappresenta l'amministrazione comunale, anche il Presidente della Regione si è fatto sentire con un messaggio al Patriarca, non riuscendo fisicamente ad essere presente. Siamo qui per pregare. E allora lasciamo che la preghiera sia il linguaggio con il quale affidiamo le nostre intenzioni, le sorti del mondo, il linguaggio potente con il quale chiediamo a Dio di prendersi cura, anche attraverso di noi, dell'umanità e del mondo intero. Beattitudine. So che qui non dicono, credo, Sua Eccellenza era benedissima, ma noi, uso titolo bizantino, grazie per questa grande opportunità per il nostro popolo. Grazie al Rettore del seminario, Padre Morris, segretario, tutti i seminaristi, tutto il popolo italiano, soprattutto qui, i Veneti, i Veneziani, per l'accoglienza da tanti anni, che siamo diventati amici. Noi, la nostra comunità qui a Venezia già è presente da 22 anni. Preghiamo sempre insieme, da diverse parti, qui in queste bellissime basiliche. Oggi il nostro popolo ucraino sta vivendo ancora una cosa bella. Perché ci insegna di perdonare, di essere degni, di essere pacifici, di essere accoglienti, di parlare le lingue diverse, ma essere uniti. Oggi, stamattina, tutta la notte, era un giorno, quattro giorni, ma quella notte era terribile. Ma poi, dopo, ho visto il video quando più di 200 uomini di un paese piccolo sono usciti senza essere armati, davanti ai carri armati, e li hanno fermati, li hanno fatto tornare dietro. a Vietnam, già ho detto all'inizio, prima della messa, a Vietnam, una volta, c'era una foto che girava sull'internet quando un uomo è uscito davanti a un carro armato. oggi, in tutti i paesi dell'Ucraina, tanti uomini sono così, io sono stupito. Una piccola bambina, ho visto, dopo quando hanno bruciato, hanno sparato, hanno bombato la casa propria, con la sua mamma, con un sorriso, ha detto, Putin, ma dove, con sorriso, come, come, diceva, parlava come un scherzo, ma noi dove, guarda cosa hai fatto, ma noi adesso, dove dobbiamo, dove possiamo dormire, spiegaci per favore. e noi siamo qui, noi siamo qui di dare una testimonianza di qualcosa che sta succedendo nel nostro paese, anche nel tutto il mondo, di una cosa bella, di una cosa che ci dimostra degnità dell'uomo, oggi abbiamo, secondo il nostro rito del calendario gregoriano, la domenica del perdono. Da noi è un rito dopo la liturgia che prete si inchina proprio sulla terra davanti al popolo chiedendo il perdono da tutto l'anno e poi il popolo se è la possibilità fa lo stesso. adesso vorrei fare questo rito nel nome del tutto popolo ucraino, nel nome di tutta la nostra comunità qui a Venezia, chiedere il perdono al Signore e perdonare i nostri nemici che sono venuti nella nostra casa, a Putin, all'aggressore, perdoniamo e chiediamo perdono a loro, a Putin, anche, non lo so perché ci odia così tanto, non lo capiamo, ma tutti quanti armati con la potenza, con le armi, chiediamo perdono, vorrei chiedere perdono se abbiamo fatto qualcosa di male, gli chiediamo perdono perché Lui, Signore Gesù Cristo, ci ha insegnato così, è vero o no? Non sento, è vero o no? Vero o no? Sì, si può dire così, ma non si capisce, infatti, anche a me, è difficile capire, credo, anche a sua beatitudine, al Papa, tutti i patriarchi, tutti gli uomini, soprattutto le mamme che hanno perso, i bambini e tutti quanti, ma comunque, con la speranza, l'amore e la fiducia, guardando la croce del Signore, con gioia, con serenità, con la gloria del suo volto, così sereno, così amichevole, così piacevole, così bello, così bello, sanguinato, ma quella sangue è più preziosa del mondo, di tutte le armi, di tutte le forze, di tutte le ricchezze, chiediamo, diciamo grazie al Signore, chiediamole a pace, che sia pace nei nostri cuori, nel nostro paese, nella nostra città, in tutto il mondo. adesso vi chiedo, vi chiedo questo gesto liturgico, tutti in piedi, voi non fate questa prostrazione, in chino, faccio solo io, e poi vi chiedo perdono, e poi tutti quanti, noi, chiediamo perdono, e facciamo, e perdoniamo, ognuno, ognuno gli altri, sì, ognuno gli altri. Serve il microfono, scusate. Perdonate, fratelli e sorelle, che ho molto peccato, in tutta la mia vita, vi chiedo perdono, perdonatemi, ti perdoniamo padre, potete rispondere. Beh, si fa tre volte, ma faccio un po' più, basta una volta, del perdono, che credo, sì, adesso tutti noi, chiediamo il perdono, ognuno gli altri, anche a tutti quanti, a Dio, perdonaci Signore, perdonaci Signore, perché abbiamo, molto peccato, davanti a te, donaci il suo amore, la pace, nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. grazie. Nel primo mistero della gloria, meditiamo la Ressurrezione di Gesù, dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro, trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro, e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro, perché, cercate tra i morti, colui che è vivo, non è qui, è risorto, ed esse annunciarono tutto questo, agli undici, e a tutti gli altri. Dal discorso di Papa Francesco, invocazione per la pace in Terra Santa, nei Giardini Vaticani, 8 giugno del 2014. Per fare la pace ci vuole coraggio, molto più che per fare la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all'incontro, e no allo scontro, sì al dialogo, e no alla violenza, sì al negoziato, e no alle ostilità, sì al rispetto dei pazzi, e no alle provocazioni, sì alla sincerità, e no alla doppiezza. Per tutto questo ci vuole coraggio, grande forza d'animo.